Da dieci anni l'associazione La Banca del Tempo di Gries Sanquirino a Bolzano promuove la socializzazione attraverso lo scambio di tempo tra persone che mettono a disposizione le proprie capacità ricevendo da altri ciò di cui hanno bisogno. In occasione di questo importante anniversario è stato realizzato il progetto Logo per la Banca del Tempo Gries Sanquirino in collaborazione con il liceo pedagogico artistico Giovanni Pascoli e in particolare con la classe quinta D. I ragazzi hanno elaborato dei simboli che rappresentano i concetti di fondo della Banca del Tempo solidarietà valorizzazione delle capacità individuali uguaglianza il tempo come risorsa da vivere con profondità. Il fondamento è reciprocità solidarietà gratuita cioè noi ci scambiamo il tempo così in modo gratuito e reciproco perché uno dà e l'altro riceve non è solo un'associazione di volontariato ma anche io do ma nello stesso tempo ricevo. Poi gratuitamente cioè non ha un costo l'ora è l'ora dell'ingegnere come l'ora dell'operaio. Una speciale commissione ha scelto tra i lavori realizzati dai gruppi di liceali quello che sarà utilizzato dalla Banca del Tempo. Le autrici del Logo Vincente sono Andrea Mercurio, Valentina Stecchi e Valentina Piovani che sono state premiate alla presenza dell'assessore all'urbanistica e ai tempi della città Maria Chiara Pasquali. Noi vorremmo che questa comunità si diffondesse e prendesse piede anche in altri quartieri e allora siamo partiti con l'idea di coinvolgere una scuola, questo liceo che naturalmente si occupa ed è creativo, artistico, per anche in questa occasione individuare un logo che promuovesse la Banca del Tempo. I 500 euro messi in palio dall'ufficio Tempi della città sono stati devoluti dalle tre vincitrici all'intera classe per una cena di fine anno.